10 ottobre, giornata mondiale della vista e come anticipavamo in apertura ho due illustri ospiti per affrontare il tema e per porre l'accento sulla prevenzione che nel sistema salute è sempre di fondamentale importanza. Do il benvenuto e il buongiorno stamattina al dottor Antonio Laborante, responsabile della struttura complessa di oculistica di Casa Sullievo della Sofferenza in San Giovanni Rotondo e al referente provinciale dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, il signor Michele Corcio. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno a tutti. Grazie per la disponibilità. Trascorre qualche minuto con noi. Abbiamo detto che la prevenzione è di fondamentale importanza anche per la vista, dottore. Sì, l'organo visivo è fondamentale. Io mi sento di dire non solo per appartenenza di specialità ma per realtà che secondo me è l'organo di senso più importante in assoluto. Calcoliamo che la finestra con cui ci interfacciamo nel mondo e tutti i messaggi che ci vengono dal mondo esterno per l'80% vengono filtrati dall'apparato visivo. Quindi l'organo della vista ha dignità di essere assolutamente utilizzato al meglio e in una giornata così importante dove abbiamo la fortuna di avere con noi Michele Corcio che da sempre si è interfacciato con noi e si è impegnato a risolvere, aiutare a diffondere il messaggio della prevenzione della vista, è importante che la popolazione sappia che ci sono delle norme di base che ci possano aiutare a prevenire le problematiche visive perché anche l'occhio come la medicina si avvale dal detto che prima si interviene e più si ottiene. Quindi senza entrare adesso nello specifico, se volete lo facciamo, è ovvio che c'è tutta una serie di parametri da valutare affinché l'organo visivo venga preservato addirittura dall'età gestazionale fino all'età senile. Io mi sento di dire giusto velocemente che ogni età si approccia a una problematica da prevenire, esempio la gravidanza è fondamentale, una gestione corretta perché durante la gravidanza ci sono patologie importanti tipo rosolie e toxoplasmosi che possono favorire problematiche gravi nel nascituro. Il bambino che è appena nato ovviamente richiede una prima visita che viene fatta dal neonatologo, dal pediatra, dall'oculista con un semplice esame, con una lampadina e noi vediamo se la pupilla presenta il cosiddetto riflesso rosso del fondo. Perché se l'asse visivo, diciamo l'apparato visivo ha un ostacolo, cataratta congenita, glaucoma congenita, retinoblastoma, quell'apparato visivo non sarà mai completamente adeguatamente sviluppato. E calcoliamo che il piccolo bambino si approccia al mondo con un apparato visivo che vede appena un centesimo, quando comincia a vedere i movimenti delle mani, il volto della mamma, le persone che gli stanno intorno, intorno ai sei mesi per maturare l'apparato visivo in maniera completa tra i tre anni e i sei anni. Quindi una visita preventiva alla nascita a un anno, a tre anni e a sei anni è fondamentale. In particolare l'apparato visivo nel bambino va seguito tra i sei anni quando dobbiamo escludere in particolare l'occhio pigro, l'occhio ambliope ed è legato spesso a dei difetti di refrazione diversi da un occhio all'altro. Ma oltre al bambino la prevenzione va fatta anche in età post scolare, intorno ai 10-11 anni, quando dobbiamo escludere che ci sia un difetto refrattivo, miopia, stigmatismo, ipermetropia. Possiamo stare tranquilli se non c'è problema negli anni successivi e un altro momento importante di screening è quello della maggior età, in particolare prima con la visita di leva, adesso magari perché uno deve prendere la patente. Spesso vengono fuori problemi che bisogna affrontare in maniera decisa, correzione del vizio refrattivo, lenta a contatto, riabilitazione. L'età forse più tranquilla se non ci sono problemi è tra i 20 e i 40 anni, perché dopo i 40 anni assistiamo alla comparsa di altre problematiche, la più semplice che non è una problematica patologica che è la presbiopia, in cui praticamente noi dobbiamo escludere un difetto nella messa a fuoco da vicino, è un difetto fisiologico che si corregge con l'uso del vizio refrattivo. Confermo, confermo. È una cosa diciamo molto comune e ovviamente a 40 anni bisogna cominciare a escludere il glaucoma, che appannaggia anche di altre età, però io mi riferisco in particolare al glaucoma cronico che è la forma più comune, perché cerchiamo di sintetizzare quelle forme più comuni. Può comparire qualche problema con il diabete, il diabete è una patologia importante, infatti bisogna ricordare ai pazienti che se uno è diabetico, iperteso, molte volte la diagnosi viene posta addirittura con l'esame semplicemente di un fondo dell'occhio, in cui noi vediamo attraverso la retina la situazione dei vasi ed è come se l'occhio fosse la porta dell'organismo, quindi noi vediamo l'occhio e capiamo se ci sono altre problematiche. Compare anche la cataratta in alcuni casi, perché la cataratta adesso, l'età della cataratta è scesa molto, perché siamo in un mondo in cui le stimolazioni per l'occhio sono molto importanti, abbiamo il problema delle radiazioni, l'abuso dei terminali, l'abuso dei telefonini, su questo poi ci sarebbe da dire tanto, magari ne possiamo parlare dopo se ritenete di farlo, e in particolare l'altro problema importante che viene con l'età è, oltre ai danni del glaucoma, che può portare anche a un'otticopatia e a una ipovisione importante, la degenerazione maculare, che può essere senile ma anche miopica, in cui noi andiamo a compromettere la visione centrale, abbiamo difficoltà a fare le cose da vicino, a vedere i colori, vediamo distorto e anche in questo devo dire che la prevenzione è fondamentale, perché nelle maculopatie ovviamente se si interviene subito abbiamo l'opportunità di bloccare la malattia, addirittura di tornare a una buona visione o di rallentare il decorso. Grazie dottore, sull'utilizzo dei terminali magari e dei dispositivi tecnologici, magari faremo proprio una puntata a parte, perché oggi caratterizzano la nostra vita in tutte le parti della giornata, in tutte le nostre fasi, da quando siamo bambini a quando diventiamo adulti. Lei ha utilizzato un verbo importante, ricordare, perché voglio coinvolgere anche il signor Michele, la giornata mondiale della vista diventa un appuntamento importante per informare e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione, ma a volte dobbiamo proprio ricordarcelo, perché le cose le sappiamo, ma tutte le nostre faccende, i nostri impegni ci distraggono dal tutelare la nostra stessa salute. Infatti la giornata mondiale della vista, che è promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, ha la finalità di ricordare, ma rafforzare, esaltare l'importanza e la bellezza della vista, perché la vista è globale, la vista è dominante nell'azione di ciascuno di noi. E allora la bellezza, perché? Perché è attraverso la vista che noi vediamo i colori, vediamo le bellezze del nostro Gargano, la bellezza di questo complesso ospedaliero, la bellezza delle persone che sono a noi vicine, la bellezza del creato, l'alba, il tramonto. E allora attraverso questo noi dobbiamo assolutamente mettere in campo una serie di comportamenti che debbono proteggere e tutelare la vista. E ve lo dice uno che ovviamente la vista l'ha persa e quindi, come abbiamo sentito dal dottor Laborante, è deprivato da un punto di vista sensoriale di almeno l'80% delle informazioni che sono intorno a noi, a partire proprio dai colori. E' importante avere cura dei propri occhi attraverso visite oculistiche di prevenzione, attraverso una importante conoscenza e consapevolezza di quelli che possono essere i limiti imposti da una minorazione visiva. Quanto incide la minorazione visiva, ad esempio, sugli apprendimenti scolastici? E' importante che gli insegnanti, la scuola sappia cogliere nei comportamenti dei bambini quelle che possono essere le manifestazioni di un problema visivo che molto spesso viene sottovalutato. Si tenga conto che nel mondo un miliardo di persone soffre di problemi visivi. Certamente il numero dei ciechi assoluti, per fortuna, sta diminuendo. Siamo intorno ai 35 milioni nel mondo di ciechi assoluti, ma abbiamo oltre 250 milioni di persone cosiddette ipovedenti, che hanno una capacità visiva molto ridotta e tantissime altre persone che invece hanno dei disturbi refrattivi. Molte altre che non possono essere operate perché semmai vivono in contesti molto poveri, molto deprivati e in Italia ci sono circa 3 milioni e mezzo di persone che hanno problemi di vista dalla cecità assoluta alla ipovisione cosiddetta lieve. E' importante potenziare i servizi diagnostici degli ospedali, è importante potenziare i servizi riabilitativi, i centri di riabilitazione che sono stati creati presso molti ospedali, come quello che lavora così egregiamente presso la divisione di oculistica di Casa Sollevo della Sofferenza diretta dal nostro dottor Antonio Laborante. E' necessario potenziare la conoscenza e l'attenzione delle istituzioni pubbliche. E voglio evidenziare solo un elemento, l'investimento economico in prevenzione significa un grande guadagno economico poi in termini anche di produttività. E questo i politici, coloro che hanno la responsabilità della cosa pubblica, debbono tenerne grandemente conto. Grazie, grazie signor Michele. Michele Corcio, referente provinciale per l'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, che insieme al dottor Antonio Laborante stamattina hanno impreziosito la nostra puntata di Just Today e ha arricchito con i loro interventi puntuali questa giornata mondiale della vista. Ecco, ritagliamo il tempo necessario che serve per prevenire tutte le patologie che sono state elencate. Facciamo la nostra parte perché poi tutelando noi stessi, come è stato appena spiegato, in realtà tuteliamo anche tutte le persone che ci circondano nel nostro sistema paese. Il nostro tempo a disposizione purtroppo è evaporato come immaginavamo, però ecco, mi auguro ci si possa ritrovare presto, anche in futuro, per approfondire i tanti temi che appunto sono legati al mondo della vista. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Buon lavoro, buona giornata mondiale della vista e a prestissimo. Buongiorno a tutti. Linea alla regia, noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Grazie.